con gli occhi non lasciavo mia madre sapevo che una volta a tavola non mi sarebbe stato permesso di restare per tutta la durata del pranzo e che per non contrariare mio padre la mamma non si sarebbe lasciata baciare a più riprese davanti agli altri come se fossimo stati in camera mia così mi ripromettevo in sala da pranzo quando si fosse cominciato a mangiare e io avessi sentito avvicinarsi l'ora di fare in anticipo riguarda quel bacio che sarebbe stato così breve e furtivo tutto ciò che potevo fare da solo di scegliere con lo sguardo il punto della guanza che avrei baciato di preparare il mio pensiero in modo da riuscire grazie a quel mentale inizio di bacio a conservare per intero il minuto accordatomi dalla mamma a sentire il suo viso contro le mie labbra simile a un pittore che potendo contare solo su brevi sedute di posa prepara la sua tavolozza e fa in anticipo a memoria basandosi sugli appunti tutto ciò per cui può a stretto rigore fare a meno della presenza del modello ma ecco che prima che il pranzo fosse servito il nonno ebbe la ferocia incosciente di dire il piccolo all'aria stanca dovrebbe andare a letto stasera del resto si pranza tardi e mio padre che non teneva così scrupolosamente fede ai trattati come la nonna e la mamma disse sì andiamo vai a letto feci per baciare mia madre proprio in quell'istante risuonò la campanella del pranzo ma no via lascia stare tua madre mi siete già detti buonanotte a sufficienza queste manifestazioni sono ridicole coraggio sali e mi toccò andare senza viatico mi toccò salire gradino dopo gradino la scala come dice l'espressione popolare di contro cuore letteralmente contro il mio cuore che voleva tornare accanto a mia madre la quale non gli aveva concesso con il suo bacio licenza di venire con me quella scala odiatissima che imboccavo sempre con tanta tristezza esalava un odore di vernice che aveva in qualche modo assorbito fissato il particolare tipo di sofferenza che io provava ogni sera e la rendeva forse ancora più crudele per la mia sensibilità perché in quella forma olfattiva la mia intelligenza non poteva più prendervi parte quando dormiamo e non percepiamo ancora un mal di denti se non come una ragazza che tentiamo 200 volte di fila di salvare dall'acqua o come un verso di moliere che continuiamo a ripeterci senza sosta è un vero sollievo svegliarci e liberare con l'intelligenza il mal di denti da ogni camuffamento eroico cadenzato era l'esatto rovescio di tale sollievo ciò che io provavo quando il dispiacere di salire in camera mia entrava dentro di me in un modo infinitamente più rapido quasi istantaneo insidioso e brusco al tempo stesso attraverso l'inalazione molto più tossica di un'infiltrazione morale dell'odore di vernice tipico di quella scala una volta in camera mi toccò bloccare tutte le uscite chiudere le imposte scavarmi da me la mia tomba sistemando le coperte indossare il sudario della camicia da notte ma prima di seppellirmi nel letto di ferro che avevano aggiunto nella camera perché l'estate avevo troppo caldo sotto le cortine di reps del lettone ebbi un moto di rivolta voglio tentare un espediente da condannato scrissi a mia madre supplicandola di salire per una cosa grave che non potevo dirle per lettera il mio terrore era che francoise la cuoca della zia che era incaricata di occuparsi di me quando mi trovavo a combre si rifiutasse di consegnare il biglietto supponevo che fare una commissione destinata a mia madre quando c'erano degli invitati dovesse sembrarle tanto impossibile quanto al portiere d'un teatro ricapitare una lettera a un attore mentre questi è in scena sulle cose che si possono o non si possono fare il codice al quale lei si atteneva era ferro e circostanziato sottile e intransigente riguardo a distinzioni oziose o inafferrabili ciò che gli conferiva l'aspetto di quelle legge antiche dove accanto a prescrizioni feroci per esempio di massacrare i fanciulli al seno delle madri si proibisce con delicatezza esagerata di far bollire il capretto nel latte materno o di mangiare il nervo della coscia di un determinato animale era un codice che a giudicare dall'improvvisa ostinazione con le quale lei si rifiutava di eseguire certe commissioni che le venivano affidate aveva previsto si sarebbe detto complessità sociali e ricercatezze mondane che nulla nell'ambiente di françoise nella sua vita di domestica di paese poteva averle suggerito e si era costretti a concludere che in lei era vivo un passato francese antichissimo nobile e incompreso come in certe città manufatturiere dove qualche vecchio palazzo testimonia la remota esistenza di una vita di corte o dove gli operai di una fabbrica di prodotti chimici lavorano in mezzo a fini sculture che rappresentano il miracolo di san teofilo o i quattro figli di aimone nel caso specifico l'articolo del codice in base al quale era poco probabile che salvo il caso di incendio françoise andasse a disturbare la mamma in presenza del signor suan per un personaggio di scalzo lirievo come me non aveva altro contenuto che il rispetto da lei professato non solo per i genitori così come per i morti i preti e i re ma anche per lo straniero al quale si sia data ospitalità rispetto che mi avrebbe forse impressionato in un libro ma che in bocca a lei mi irritava sempre a causa del tono grave e commosso con il quale ne parlava tanto più che quella sera in cui il carattere sacro rivestito ai suoi occhi dal pranzo mi avrebbe spinta al rifiuto di turbare la cerimonia ma per assicurarmi almeno qualche possibilità non esitai a mentirle dicendole che non ero assolutamente io a voler scrivere alla mamma ma che era stata lei che lasciandomi mi aveva raccomandato di non dimenticare di farle avere una risposta a proposito di qualcosa che mi aveva pregato di cercarle e si sarebbe certo molto arrabbiata se non le fosse stato consegnato il biglietto in questione io penso che françoise non mi abbia creduto se che come gli uomini primitivi i cui sensi erano molto più acuti dei nostri era capace di discernere immediatamente da segni per noi impercettibili qualsiasi verità le volessimo nascondere per cinque minuti fissò la busta come se l'esame della carta e l'aspetto della scrittura dovessero informarla circa la natura del contenuto o indicarle a quale articolo del suo codice far riferimento poi se ne andò con un'aria rassegnata che sembrava significare e disgrazia per dei genitori avere un figlio così tornò dopo un istante a dirmi che erano solo al gelato che il maggiordomo non poteva certo consegnare la lettera in quel momento davanti a tutti ma che quando avessero portato il rinsbouché avrebbe trovato il modo di farla arrivare alla mamma subito la mia ansia cadde adesso non era più fino a domani come un attimo prima che avevo lasciato mia madre perché il mio biglietto non potendo non irritarla e a maggior ragione in quanto quel maneggio rischiava di rendermi ridicolo agli occhi di chuan mi avrebbe fatto entrare stagiato e invisibile nella sua stanza le avrebbe parlato di me all'orecchio e quella sala da pranzo proibita ostile dove ancora un istante prima lo stesso gelato la granita gli stessi rinsbouché mi sembravano racchiudere voluta malefiche e mortalmente malinconiche perché la mamma le assaporava lontano da me mi si apriva simile a un frutto che divenuto dolce fa scoppiare il suo involcro sul punto di sprizzare di proiettare fino al mio cuore inebriato l'attenzione della mamma nel momento in cui avrebbe letto le mie parole adesso non ero più separato da lei le barriere erano cadute un filo delizioso ci univa e non era tutto la mamma certo sarebbe venuta l'angoscia che avevo appena finito di provare pensavo che chuan se ne sarebbe senz'altro beffato se avesse letto la mia missiva e ne ha preso in seguito un'angoscia simile fu per lunghi anni il tormento della sua vita e nessuno forse avrebbe potuto capirmi meglio di lui a lui quell'angoscia che si prova sentendo l'essere al quale si vuol bene in un luogo di piacere dove noi non siamo dove non possiamo raggiungerlo è l'amore che l'ha fatta conoscere l'amore a cui è in qualche modo predestinata da cui sarà accaparrata specializzata ma quando come nel mio caso essa è entrata dentro di noi prima ancora che quello abbia fatto la sua apparizione nella nostra vita allora aspettandolo fluttua libera e vaga priva di una destinazione precisa al servizio di un giorno di sentimento l'indomani di un altro ora della tenerezza filiale ora dell'amicizia per un compagno e la gioia della quale io feci il primo apprendistato quando françoise tornò a dirmi che la mia lettera sarebbe stata consegnata suan l'aveva conosciuta bene anche lui quella gioia ingannevole che ci dà qualche amico qualche parente della donna che amiamo quando arrivando al palazzo al teatro in cui lei si trova per qualche ballo ricevimento o premier dove l'incontrerà a momenti ci vede questo amico che vaghiamo fuori in disperata attesa di un'occasione qualsiasi di comunicare con lei ci riconosce ci abborda finalmente ci chiede che cosa facciamo in quel luogo e siccome inventiamo di avere qualcosa di urgente da dire alla sua parente o amica lui ci assicura che non c'è niente di più semplice si fa entrare nel vestibolo e ci promette che ce la manderà entro cinque minuti come l'amiamo esattamente come io in quel momento amavo françoise quell'intermediario bene intenzionato che con una parola ci ha reso sopportabile umana e quasi propizia alla festa inimmaginabile infernale nelle cui spire credevamo che turbini ostili perversi e deliziosi trascinassero lontano da noi facendola ridere di noi colei che amiamo a giudicare da lui dal parente che ci è venuto vicino e che è a sua volta un iniziato di quei creduli misteri gli altri invitati della festa non devono avere niente di così demoniaco quelle ore inaccessibili e torturanti durante le quali lei avrebbe gustato piaceri sconosciuti ecco che per una brezza insperata anche noi vi penetriamo ecco che uno dei momenti la cui successione le avrebbe composte un momento non meno reale degli altri forse addirittura più importante per noi dal momento che la nostra diletta vi è più implicata siamo in grado di rappresentarcelo lo possediamo vi interveniamo l'abbiamo quasi creato il momento in cui le diranno che noi siamo lì lì giù e senza dubbio gli altri momenti della festa non dovevano essere di un'essenza così diversa da questo non dovevano avere niente di più delizioso o tale da farci tanto soffrire visto che il benevolo amico ci ha detto ma sarà felice di scendere e farà molto più piacere parlare con voi che annoiarsi lassù ahimè suanne aveva fatto esperienza le buone intenzioni di un terzo non hanno alcun potere su una donna che si irrita sentendosi inseguita anche a una festa da qualcuno che non ama spesso l'amico torna da solo mia madre non venne e senza riguardi per il mio amor proprio impegnato a evitare la sconfessione della favola della ricerca di cui avevo preteso che lei mi avesse pregato di riferirle il risultato mi fece dire da françoise quelle parole non c'è risposta e così spesso poi ho sentito ripetere da portiere di grandi alberghi o dalla che di case da gioco a qualche povera ragazza che si stupisce ma come non ha detto niente non è possibile eppure gliel'avete consegnata la mia lettera va bene aspetterò ancora e così come quella sicura invariabilmente di non aver bisogno della lampada supplementare che il portiere vuole accendere per lei e se ne resta là non sentendo più che le rare battute sul tempo che il portiere scambia con un fattorino al quale accorgendosi a un tratto dell'ora ordina di mettere in ghiaccio la bevanda di un cliente io declinai l'offerta di françoise di farmi una tisana o di restare accanto a me la lasciai tornare nell'office mi misi a letto e chiusi gli occhi cercando di non sentire le voci dei miei parenti che prendevano il caffè in giardino ma nel giro di pochi secondi capì che scrivendo quel biglietto alla mamma e arrivando a rischio di farla arrabbiare così vicino a lei che mi ero creduto ormai sul punto di rivederla mi ero precluso la possibilità di addormentarmi senza averla rivista e i battiti del mio cuore si facevano di minuto in minuto più dolorosi perché io stesso accrescevo la mia agitazione predicandomi una calma che equivaleva all'accettazione della mia sventura all'improvviso la mia ansia cadde una felicità mi invase come quando un farmaco potente comincia ad agire e ci toglie un dolore avevo preso la risoluzione di non cercare più di addormentarmi senza aver rivisto la mamma di baciarla a qualsiasi costo benché fossi certo che questo avrebbe significato sopportare a lungo le conseguenze della sua irritazione quando fosse salita a coricarsi la calma che risultava dalla fine delle mie angosce mi metteva in uno straordinario stato di allegrezza non meno di quanto avviene per l'attesa da sete e la paura del pericolo aprì la finestra senza rumore e mi sedetti in fondo al letto non facevo quasi nessun movimento perché dagiù non mi sentissero fuori le cose sembravano anch'esse rapprese in una muta attenzione a non turbare il chiaro di luna che raddoppiando e facendo indietreggiare ogni cosa per il fatto di stenderle davanti il suo riflesso più denso e concreto della cosa stessa aveva un tempo rimpicciolito e ingrandito il paesaggio come una mappa che ripiegata fino a quel momento venga distesa per intero ciò che aveva bisogno di muoversi il fogliame d'un castagno si muoveva ma il suo fremito minuzioso e totale eseguito fin nelle minima sfumature e nelle più estreme delicatezze non stringeva sul resto nevi si fondeva restava circoscritto esposti al di sopra di questo silenzio che non ne assorbiva un'oncia i rumori più distanti quelli che dovevano venire da giardini situati dall'altro capo della città si percepivano in dettaglio con una tale finezza che sembravano dovere un simile effetto di lontananza unicamente a loro pianissimo come certi motivi in sordina eseguiti dall'orchestra del conservatorio così bene che l'ascoltatore pur non perdendone una sola nota ha l'impressione di sentirli risuonare dal di fuori della sala e tutti i vecchi abbonati comprese le sorelle della nonna se swan aveva ceduto loro i suoi posti tendevano l'orecchio come se stessero ascoltando il remoto clamore di un esercito che avanzando nella sua marcia non avesse ancora svoltato per guide trevis sapevo che la situazione nella quale mi mettevo era fra tutte quella che poteva avere per me da parte dei miei genitori le conseguenze più gravi molto più gravi di quanto un estraneo non potesse supporre tali in verità che gli avrebbe creduto che solo qualche colpa davvero vergognosa fosse in grado di provocarle ma nell'educazione che mi veniva impartita la gerarchia delle colpe non era la stessa che nell'educazione degli altri ragazzi e davanti a tutte le altre certamente perché non ce n'era alcuna dalla quale io avessi bisogno d'essere più attentamente preservato ero abituato a collocare quelle di cui capisco ora che possedevano la caratteristica comune di essere commesse per cedimento a un impulso nervoso ma allora questa espressione non veniva pronunciata nessuno denunciava di quelle colpe un'origine che avrebbe potuto farmi credere di essere scusabile se io vi cedevo o forse addirittura incapace di resistervi io però le riconoscevo bene dall'angoscia che le precedeva non meno che dalla severità del castigo che le seguiva e sapevo che quella di cui mi ero appena macchiato apparteneva benché infinitamente più grave alla stessa famiglia di altre per le quali ero stato punito con rigore una volta che mi fossi fatto incontro a mia madre mentre saliva a colicarsi e lei si fosse resa conto che ero rimasto alzato per dirle ancora buonanotte nel corridoio non mi avrebbero più tenuto a casa mi avrebbero messo in collegio sin dell'indomani era sicuro ebbene avessi anche dovuto gettarmi dalla finestra cinque minuti dopo preferivo agire così quel che volevo adesso era la mamma dirle buonanotte ero andato troppo in là sulla via verso la realizzazione di questo desiderio per poter tornare indietro senti i passi dei miei parenti che accompagnavano su an e quando il sonaglio della porta mi avvertì che se n'era andato mi affacciai alla finestra la mamma chiedeva a mio padre se la ragosta gli era sembrata buona se il signor swan aveva preso dell'altro gelato di caffè e pistacchio a me è parso un po banale disse mia madre credo che la prossima volta bisognera provare un altro gusto non saprei dire quanto swan mi è parso cambiato disse la prozia ha un aspetto talmente vecchio la prozia aveva una così radicale abitudine di vedere sempre in swan il medesimo adolescente che si meravigliava di trovarlo tutto a un tratto meno giovane dell'età che continuava ad attribuirgli e tutti i miei parenti del resto cominciavano a vedere in lui la vecchiezza normale eccessiva vergognosa e meritata degli scapoli di tutti coloro per i quali si ha l'impressione che il gran giorno che non ha domani sia più lungo che per gli altri perché il loro è vuoto e i momenti vi si sommano sin dal mattino senza poi dividersi tra un certo numero di figli credo che abbia molti dispiaceri con quel bel tipetto di sua moglie tutta con brè sa che vive con un certo signor charlus è la favola della città mia madre fece notare che da qualche tempo tuttavia lui aveva l'aria molto meno triste fa anche molto meno spesso quel gesto che ha sempre fatto come suo padre di asciugarsi gli occhi e di passarsi la mano sulla fronte io penso che in fondo non l'ami più quella donna ma è naturale che non l'ama più replicò mio nonno è già parecchio che ho ricevuto da lui una lettera su questo argomento alla quale mi sono affrettato a non conformarmi e che non lascia alcun dubbio circa i suoi sentimenti nei confronti della moglie per lo meno per quanto riguarda l'amore ecco vedete non l'avete ringraziato per lasti soggiunse il nonno voltandosi verso le due cognate come non l'abbiamo ringraziato credo anzi si ha detto fra noi di essere riuscita a portergli la cosa con una certa delicatezza obiettò zia flora sì te la sei cavata molto bene ti ho ammirata disse zia celine ma anche tu sei stata bravissima sì ero piuttosto fiera della mia frase sui vicini gentili come è questo che chiamate ringraziare proruppe il nonno ho sentito anch'io ma mi prenda un accidente se ho pensato che fosse per swan potete star certe che non ha capito niente ma andiamo swan non è uno sciocco sono sicura che ha apprezzato non potevo mica dirgli il numero delle bottiglie e il prezzo del vino mio padre e mia madre rimasero soli e si sedettero un istante poi mio padre disse bene se vuoi possiamo salire a coricarci se tu vuoi amico mio anche se io non ho nemmeno un'ombra di sonno eppure non può essere stato quel gelato di caffè così innocuo a tenermi sveglia ma vedo della luce nell'office e dal momento che la povera françoise mi aspetta le chiederò di slacciarmi il corpetto mentre tu ti spogli e mia madre aprì la porta traforata che dal vestibolo emetteva sulle scale subito la sentì che saliva a chiudere la sua finestra andai senza rumore nel corridoio il cuore mi batteva così forte che facevo fatica a camminare ma almeno non batteva più d'ansia ma di spavento e di gioia vidi nella tromba delle scale la luce proiettata dalla candela della mamma poi la vidi lei stessa e mi slanciai in un primo momento lei mi guardò sbalordita senza capire cosa fosse successo poi il mio viso assunse un'espressione di collera non diceva neppure una parola e in effetti per molto meno di questo non mi veniva rivolto il discorso per parecchi giorni se la mamma mi avesse detto qualcosa sarebbe stato come ammettere che era possibile ripararle con me e d'altra parte la circostanza mi sarebbe forse sembrata ancor più terribile il segno che di fronte alla gravità del castigo che si preparava il silenzio il corruccio erano puerili una parola sarebbe stata la calma con la quale si risponde a un domestico una volta che si sia deciso di licenziarlo il bacio che si dà a un figlio quando lo si spedisce ad arruolarsi mentre non si esiterebbe a negarglielo se ci si dovesse accontentare di tenergli il broncio per due giorni ma lei sentì mio padre che saliva dalla stanza da bagno dove era andato a spogliarsi e per evitare la scenata che lui mi avrebbe fatta mi disse con voce soffocata dalla collera scappa scappa che almeno tuo padre non ti veda qui che aspetti come un folle ma io le ripetevo veni a darmi la buonanotte terrorizzato alla vista del riflesso della candela di mio padre che s'alzava ormai lungo la parete ma sfruttando anche il suo avvicinarsi come strumento di ricatto e sperando che la mamma per evitare che mio padre mi trovasse ancora lì se lei continuava a non cedere mi dicesse torna in camera tua vengo subito troppo tardi mio padre era davanti a noi senza volerlo mormorai queste parole che nessuno sentì sono perduto non fu così mio padre mi rifiutava di continuo dei permessi che mi erano stati riconosciuti nei più larghi patti concessi da mia madre e da mia nonna perché non si curava dei principi e non era questione con lui di diritto delle genti per una ragione affatto contingente o addirittura senza ragione mi sopprimeva all'ultimo momento una passeggiata così abituale così consacrata che era impossibile privarmene senza spergiuro oppure come aveva fatto proprio quella sera molto prima dell'ora rituale mi diceva coraggio sali a coricarti nessuna spiegazione ma allo stesso modo poiché non aveva principi nel senso della nonna non aveva propriamente parlando alcuna intransigenza mi guardò un istante con aria sorpresa irritata poi quando la mamma gli ebbe spiegato l'accaduto con poche parole imbarazzate le disse vai con lui dunque visto che dicevi appunto di non aver voglia di dormire rimani un po in camera sua io non ho bisogno di niente ma amico mio si oppose timidamente mia madre che io abbia voglia o no di dormire non cambia niente non si può abituare il ragazzo ma non si tratta di abituare disse mio padre scrollando le spalle lo vedi bene che il piccolo soffre ha un'aria disperata povero ragazzo insomma non siamo mica dei carnefici quando sarai riuscito a farlo ammarare beh progresso avrai fatto visto che in camera sua ci sono due letti dia francois di prepararti il letto grande e dormi accanto a lui per stanotte su buonanotte che io non sono nervoso come voi e me ne vado a dormire non si poteva ringraziare mio padre non si sarebbe soltanto infastidito di quelle morboserie come le chiamava lui ma me ne stetti là me ne stetti là senza azzardare un movimento lui era ancora davanti a noi alto nella sua camicia da notte bianca sotto lo scialle indiano viola e rosa che da quando soffriva di nevralgie s'annodava intorno alla testa con il gesto di abramo che nella stampa di benozzo gozzoli regalata mi da suam dice a sara che deve separarsi dai sacco sono passati parecchi anni da allora la parete delle scale lungo la quale vidi salire il riflesso della candela non esiste più da molto tempo anche dentro di me tante cose sono andate distrutte che credevo dovessero durare per sempre e altre nuove ne sono sorte facendo nascere nuove pene e gioie che quella sera non avrei potuto prevedere così come quelle da allora mi è ormai difficile capirle e da molto tempo a mio padre non è più possibile dire alla mamma vai col piccolo quelle ore mi sono ormai inaccessibili ma da un po di tempo ho ricominciato a sentire molto bene se mi concentro i singhiozzi che ebbi la forza di trattenere davanti a mio padre e che scoppiarono quando più tardi mi ritrovai solo con la mamma in realtà essi non sono mai cessati ed è soltanto perché la vita si è fatta adesso più silenziosa intorno a me che li sento di nuovo come quelle campane di conventi che il clamore della città copre tanto bene durante il giorno da far pensare che siano state messe a tacere e invece si rimettono a suonare nel silenzio della sera la mamma passò quella notte nella mia camera proprio quando avevo commesso una colpa così grave da farmi credere che avrei dovuto andarmene via da casa i miei genitori mi concedevano più di quanto avessi mai ottenuto da loro come ricompensa di una buona azione persino nel momento in cui si estrinsecava in questa grazia il comportamento di mio padre nei miei confronti conservava quel tanto di arbitrario ed immeritato che era la sua caratteristica e che si poteva riassumere nel fatto che a determinarlo erano piuttosto delle convenienze fortuite che non un piano premeditato può anche darsi che quella che io chiamavo la sua severità quando mi mandava a letto meritasse tale definizione meno di quella di mia madre o di mia nonna giacché la sua natura per alcuni aspetti più divergente dalla mia di quanto non fosse la loro probabilmente non aveva ancora intuito fino a quel momento la mia infelicità ad ogni sera di cui mia madre e mia nonna erano invece ben consapevoli ma loro due mi amavano tanto da non volermi risparmiare la sofferenza da volermi insegnare a dominarla per attenuare la mia sensibilità nervosa e rafforzare la mia volontà quanto a mio padre che nutriva per me un altro genere d'affetto non so se avrebbe avuto un simile coraggio la prima volta che si era accorto che soffrivo aveva detto a mia madre su vai a consolarlo la mamma restò quella notte nella mia camera e come se non volesse guastare con il minimo rimorso delle ore così diverse da quelle cui avrei potuto legittimamente aspirare quando françoise resasi conto che succedeva qualcosa di straordinario vedendo la mamma che è seduta accanto a me mi teneva la mano e mi piangere senza sgridarmi le chiese signora cos'ha il signorino da piangere tanto le rispose non lo sa neanche lui françoise ha una crisi di nervi preparatemi subito il letto grande e andate a dormire così per la prima volta la mia tristezza non era più considerata una mancanza da punire ma un male involontario al quale era toccato un riconoscimento ufficiale uno stato nervoso di cui io non ero responsabile provavo il sollievo di non dover più mescolare degli scrupoli all'amarezza delle mie lacrime potevo piangere senza peccato e non ero certo poco fiero di fronte a françoise di questo rivolgimento del destino che a distanza di un'ora da quando la mamma si era rifiutata di salire in camera mia e mi aveva stegnosamente fatto rispondere che dovevo dormire mi innalzava alla dignità di persona adulta facendomi raggiungere di colpo una sorta di pubertà della sofferenza di emancipazione dalle lacrime avrei dovuto essere felice non lo ero mi sembrava che mia madre mi avesse fatto una prima concessione che doveva essere stata dolorosa che si trattasse da parte sua di una prima abdicazione a quell'ideale che aveva immaginato per me che per la prima volta lei così coraggiosa si confessasse vinta mi sembrava di aver riportato sì una vittoria ma contro di lei di essere riuscito a piegare la sua volontà a far cedere la sua ragione così come avrebbero potuto riuscirci la malattia i dispiaceri o l'età e che quella notte inaugurasse un'era e fosse destinata a restare come una data ma una data triste se ne avessi avuto il coraggio adesso avrei voluto dirle non voglio non dormire qui ma conoscevo la saggezza pratica realistica si direbbe oggi che mitigava in lei la natura ardentemente idealista della nonna e sapevo che ora che il male era fatto avrebbe preferito lasciarmene almeno gustare il pacificante piacere e non disturbare mio padre certo il bel viso di mia madre brillava ancora di giovinezza quella sera mentre mi stringeva teneramente le mani e cercava di frenare le mie lacrime ma mi sembrava ecco che fosse qualcosa che non avrebbe dovuto essere e la sua collera sarebbe stata meno triste per me di quella dolcezza nuova che la mia infanzia non aveva mai conosciuta mi sembrava di aver tracciato nella sua anima con mano impia e segreta una prima ruga di averle fatto spuntare un primo capello bianco questo pensiero mi fece raddoppiare i miei singhiozzi e vidi allora che la mamma che con me non si lasciava mai andare alla minima commozione veniva di colpo conquistata dalla mia e si sforzava di trattenere una voglia di pianto avvertì che me ne ero accorto e ridendo mi disse guardatelo il mio stupidello il mio uccellino finirà col far diventare la mamma sciocca come lui se non la smettiamo tutte e due su visto che non hai sonno e la mamma neppure invece di stare qui a struggerci facciamo qualcosa prendiamo uno dei tuoi libri non ci resterai male dopo se tiro fuori adesso i libri che la nonna deve regalarti per la tua festa pensaci bene non sarai delusa dopodomani di non ricevere niente al contrario ero felice e la mamma andò a cercare un pacco di libri dei quali non mi fu possibile indovinare attraverso la carta che li avvolgeva che il formato basso e largo ma che già sotto questo aspetto così sommario e velato eclissavano ai miei occhi la scatola di colori di capodanno e i bacchi da seta dell'anno precedente erano la mere odiable francois le champi le petit fadette e le mezzo né la nonna venne a saperlo in seguito aveva scelto dapprima le poesie di missè un volume di rousseau e indiana infatti così come giudicava le letture futili altrettanto malsane quanto le caramelle e i pasticcini era convinta che i grandi soffi del genio non potessero avere sullo spirito anche sullo spirito di un bambino un influsso più pericoloso e meno vivificante di quello esercitato sul corpo dall'aria aperta e dal vento di mare ma poiché mio padre l'aveva quasi trattata come una pazza quando aveva saputo che libri intendeva regalarmi lei era tornata di persona dall'ibraio juile vicomte perché io non rischiassi di restare senza regalo era un giorno di caldo coccente e rientrando a casa aveva avuto un malore tanto che il medico aveva avvertito mia madre di non lasciare che si stancasse a quel modo e aveva ripiegato su quattro romanzi campestri di jorge sand figlia mia diceva la mamma non potrei mai regalare al ragazzo qualcosa di mal scritto in realtà non si sarebbe mai rassegnata a comprare qualcosa da cui non si potesse trarre un profitto intellettuale in particolare quello che ci procurano le cose belle insegnandoci a cercare il nostro piacere lontano dalle soddisfazioni del benessere e delle vanità persino quando doveva fare a qualcuno un regalo cosiddetto utile quando doveva regalare una poltrona delle posate un bastone ricercava vecchi come se cancellato ormai dalla lunga desuetudine il loro carattere utilitario apparissero disposti a raccontarci la vita di uomini d'altri tempi più che a soddisfare i bisogni della nostra avrebbe voluto che io tenesse in camera mia le fotografie dei monumenti e dei paesaggi più belli ma al momento di acquistarle e benché l'oggetto rappresentato avesse un valore estetico le sembrava che la volgarità l'utilità riprendessero troppo presto il sopravvento nel modo meccanico della rappresentazione la fotografia cercava di giocare d'astuzia e se non di eliminare del tutto la banalità commerciale almeno di ridurla sostituendola il più possibile con altra arte inserendovi per così dire svariati spessori d'arte invece delle fotografie della cattedrale di charte dei giochi d'acqua di saint-clos del vesuvio si informava da suan se qualche grande pittore li avesse effigiati e preferiva regalarmi le fotografie della cattedrale di charte dipinta da coro dei giochi d'acqua di saint-clos dipinti da hubert robert del vesuvio dipinto da tarner il che rappresentava un grado d'arte in più ma il fotografo escluso dalla rappresentazione del capolavoro o della natura e sostituito con un grande artista riacquistava i suoi diritti nel riprodurre quell'interpretazione di fronte l'imminente scadenza della volgarità la nonna tentava di rimandarla ancora chiedeva a suan se dell'opera non fosse stata fatta qualche incisione preferendo quando era possibile incisioni antiche che presentassero qualche interesse supplementare per esempio quelle che raffiguravano un capolavoro in uno stato nel quale oggi non possiamo più vederlo come la stampa della cena di leonardo eseguita da morgan prima della degradazione dell'affresco bisogna dire che i risultati di questo modo di interpretare l'arte del regalo non furono sempre brillantissimi l'idea che mi feci di venezia da un disegno di tiziano che si suppone abbia per sfondo la laguna era certamente molto meno esatta di quella che avrebbero potuto fornirmi delle semplici fotografie in casa quando la pruzia decideva di pronunciare una requisitoria contro la nonna non si riusciva più a tenere il conto delle poltrone da lei offerte a giovani fidanzati o a vecchi sposi che al primo tentativo di servirse ne erano istantaneamente crollate sotto il peso di uno dei destinatari ma la nonna sarebbe parso meschino occuparsi più di tanto della solidità di un mobile nel quale si distinguevano ancora un garbo un sorriso a volte una bella immaginazione del passato anche ciò che in quei mobili rispondendo a un determinato bisogno aveva una foggia alla quale non siamo più abituati l'affascinava come quei vecchi modi di dire nei quali scorgiamo una metafora cancellata nel nostro linguaggio moderno dall'usura della consuetudine ora i romanzi campestri di George Sand che la nonna mi regalava per la mia festa erano appunto pieni al pari di un antico mobilio di espressioni cadute in disuso e ridiventate immagini come non se ne trovano più che in campagna e la nonna li aveva comprati preferendoli ad altri così come avrebbe preso in affitto più volentieri una proprietà dove ci fosse stata una piccionaia gotica o qualcun'altra di quelle vecchie cose che esercitano sullo spirito un benefico influsso regalandogli la nostalgia di impossibili viaggi nel tempo grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.